Un incendio di vaste dimensioni è divampato ieri nella pineta di Eboli nei pressi del poligono militare. Un incendio che si è propagato poi lungo la provinciale 195. Solo pochi giorni fa, SETV era stata sul posto per lanciare l'allarme pericolo incendi sulla pista ciclabile per la mancata manutenzione. Infatti, alimentate dal vento, le fiamme hanno raggiunto in pochi minuti la pista ciclabile lungo la provinciale, bloccando il già congestionato traffico del rientro domenicale. Vegetazione distrutta, ma soprattutto paura e pericolo per gli ebolitani residenti sulla marina di Eboli. L'erba alta che avvolge la pista ciclabile ha creato infatti una corsia alle fiamme, che dal mare si sono propagate lungo la provinciale. Pericolo scongiurato grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti preoccupati per la coltre di fumo.